E rieccoci in Mediaplaza e diamo il benvenuto a Danilo Benvenuti, il Europe Regional Director of APP. Buongiorno a voi. APP è un gruppo Asia Pulp and Paper Group, è una delle operazioni più grandi di pulpo e paper integrato nel mondo e è la più grande in Asia. Abbiamo un'account di 80.000 emplei all'interno del mondo e abbiamo un turno di over 11 milioni di dollari. La nostra produzione è basata in Cina e Indonesia, dove troviamo una città di 2.6 milioni di hectare di foresta e 500 milioni di hectare in Cina. Per dare un'idea di 2.6 milioni di hectare è come un terzo di Scotland e 500.000 hectare in Cina è uguali a 1.400 milioni di parchi centrali in New York. È una davvero grande area in questo campo. Abbiamo parlato di cambiamento dell'adaptazione nella plenarizzazione. Quali sono i problemi, i problemi del tuo discorso? Il Parlamento è stato un'interessante plenarizzazione. Il panelista ha fatto un'interessante discorso. E da un nostro punto di vista, il punto clave per noi è che abbiamo già iniziato la zero deforestation. È stato un plan che è già iniziato due anni fa. E crediamo che questo è il primo step, l'importante step, per l'area dove stiamo. E, ovviamente, non è solo questo, ci stiamo lanciando la nostra polizia di conservazione di foresti. Perché vogliamo andare a fare un'interessante quale è la regola di governo in diversi paesi. E' importante, per rinforzare, ci stiamo lanciando la protezione di un'attività di 1 milioni di hectare in la foresta indonesia, per aiutare il nostro compromesso di sostenibilità. E cosa pensi di questo congresso, l'organizzazione? Oh, è davvero interessante. E c'è molto spazio per imparare e per interagire. È importante che, nel sommario, ciò che era davvero interessante per vedere è che, finalmente, abbiamo tutti concordato che il governo e la industria privata devono sottolineare in modo di risolvere il problema di cambiamento climatico nel mondo. Questo è un passo importante, perché crediamo che deve andare avanti e aiutare l'altro, anche se gli interessi sono diversi. Ma per soli problemi come questo, non credo che dovremmo prendere un'altra posizione. Bene, prima di ringraziare il dottor Benvenuti, chiedere un commento nella nostra lingua sulla città di Torino, che ospita il congresso, se ha avuto modo di visitare qualcosa. Beh, io sono un torinese di nascita. Ah, bene. Anche se dall'accento non si capisce, perché sono molti anni che sono via da Torino. Ci sono tornato molto volentieri, è una città stupenda, che spero continui nei suoi miglioramenti che negli ultimi anni ha dimostrato e mi auguro resti il centro di molte operazioni, perché è una città che merita. Bene, ringraziamo Danilo Benvenuti, grazie a fra poco con altre interviste.